Allora eccoci qua per il secondo set della serata, adesso abbiamo un amico dell'associazione parecchi di quelli che sono in sala lo conoscono già evidentemente, anche perché Danny De Stefani è da un bel po' che calca le scene, con noi ha fatto tante belle cose, soprattutto nelle jam session che abbiamo organizzato, è stato anche ospite del nostro festival ed è un musicista di valore, oltretutto non solo suona bene ma canta anche molto bene, quindi sicuramente è un piacere averlo qui con noi e sarà un piacere anche per voi ascoltarlo. Fate un applauso a Danny De Stefani, Twin Flyers. Grazie, il piacere è mio, sempre mio essere qua, collaborare con voi è sempre un gran piacere. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.